Sono molto contento di prendere qualche ora d'aria parlando di innovazione, di digitalizzazione, di trasferimento tecnologico, di aziende che hanno voglia di innovare. È uno degli obiettivi del Ministero dello Sviluppo Economico, quello di supportare la voglia di innovazione che hanno le nostre aziende, dalla più piccola alla più grande. Il piano Industria 4.0 è un piano che va ritoccato parzialmente, creando però un accesso diretto e automatico alle misure, creando una maggior capacità attrattiva e quindi ampliando la base di circa il 40% verso le piccole e medie imprese. Ed è certamente un piano che deve essere tutto impresa 4.0, deve avere una prospettiva almeno triennale, perché dobbiamo dare certezze a chi vuole investire, sia i nostri imprenditori che chi dall'estero vuole investire nel nostro paese. Questo è un forte obiettivo del Ministero e del governo tutto.